Covid-19, lieve calo di contagi nelle marche. Guardia di finanza, sequestrati 53 mila prodotti commerciali fuori legge. Centri commerciali naturali, la regione finanzia 21 progetti. Il sottopasso di Via Lamarca diventa un murale in onore dei Camillas. Il sottopasso di Via Lamarca diventa un murale in onore dei Camillas. Questa è Rossini News, questo è il telegiornale di Rossini TV che in questa edizione di giovedì 15 luglio apriamo facendo il punto sulla pandemia nella regione Marche dopo che ieri avevamo visto triplicare i casi quotidiani di contagio da 20 a 60 in un giorno solo. Un balzo interlocutorio che oggi si riequilibra con un lieve calo. Sono infatti 40 i casi registrati, di cui 8 nella provincia di Pesaro e Urbino. Il tasso percentuale di tamponi rispetto al contagio si abbassa dunque da 4 al 3,3%. Stabili i dati dei ricoveri con 11 pazienti in degenza, di cui 2 in terapia intensiva. E restiamo in ambito di sanità ma per parlare di edilizia ospedaliera. Nell'edizione di ieri di Rossini News vi abbiamo infatti mostrato un servizio del nostro Simone Celli in cui il sindaco di Fano Massimo Seri esprimeva grosse perplessità in tema di manovre della regione Marche per quelle che riguarda l'edilizia sanitaria lamentando il rischio di depotenziamento del nosocomio Santa Croce. Accuse che già ieri il vicepresidente della regione Marche, Mirko Carloni, aveva riequilibrato e alle quali oggi si aggiunge la replica di Stefano Guzzi, assessore regionale all'edilizia, nonché ex primo cittadino di Fano. Se c'è una cosa che ci ha fatto ben capire la pandemia è che non servono più grandi punti ospedalieri ma serve una sanità il più possibile diffusa sul territorio vicino ai cittadini. Per questo come amministrazione regionale abbiamo deciso di non portare avanti il progetto di ospedale unico a Muraglia tramite project financing perché avremmo impegnato gran parte della spesa sanitaria di questa regione per i prossimi dieci anni su un'unica struttura. Quindi non andando avanti con l'ospedale unico a Pesaro significa che manterremo aperto l'ospedale di Fano rafforzandolo, quello di Urbino rafforzandolo e possibilmente mantenendo anche un'altra serie di punti di primo intervento sui territori soprattutto quelli più lontani dei grandi centri. Ecco per questo mi maraviglia la presa di posizione di ieri del sindaco di Fano che dopo aver avvallato per anni la tesi dell'ospedale unico pur sapendo che avrebbe fortemente danneggiato l'ospedale di Fano oggi invece di dare una mano all'amministrazione regionale che vuole rafforzare l'ospedale di Fano e quindi dare una mano ai cittadini della sua città viene a dire che è sbagliato il fatto di non far più l'ospedale unico perché verrebbe danneggiato Fano cioè esattamente il contrario di quello che stiamo facendo. Allora io invito il sindaco di Fano a lavorare insieme alla giunta regionale insieme agli assessori regionali della sua città per perseguire l'unico obiettivo che è quello di rafforzare la sanità nel nostro territorio, sui territori e particolarmente a Fano che è stata molto bistrattata in questi anni. Maxi sequestro della Guardia di Finanza in due esercizi commerciali di Pesaro Le Fiamme Gialle hanno infatti confiscato 53.000 prodotti utilizzati nel settore elettrico e in quello del giardinaggio oltre a 1.300 mascherine filtranti in tessuto face covering tutti i prodotti non conformi alla normativa in materia di sicurezza e dunque potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori La Guardia di Finanza ha poi allargato i riscontri sugli stessi prodotti in altri punti vendita nazionali arrivando ad un totale complessivo di merce sequestrata di 110.000 prodotti Merce che è stata tolta dal mercato con i responsabili segnalati alla Camera di Commercio per sanzioni amministrative previste fino a 25.800 euro Ed ora ci spostiamo a Gabicce Mare dove oggi si sono radunati 21 fra sindaci e amministratori marchigiani beneficiari del bando della regione che agevolerà le condizioni per creare dei centri commerciali e naturali all'interno delle aree urbane dei borghi 21 progetti, 206 imprese coinvolte, 1.300.000 euro di contributi a fondo perduto sono questi i numeri del bando che la regione Marche finanzia per quello che riguarda i centri commerciali naturali della regione Marche 21 progetti per 21 comuni, quelli che sono stati presentati qui all'hotel San Susi di Gabicce Mare hotel in cui il vice presidente della regione Marche Mirco Carloni ha radunato 21 tra sindaci e amministratori dei territori che rappresentano i progetti finanziati tutti i progetti sono stati appunto accettati da questo bando un bando che significa come la regione creda in questa formula di investimento piuttosto che il centro commerciale in senso stretto si punta a creare nelle aree urbane un'unione tra associazioni pubbliche e private in aree omogenee che possono fungere appunto da centri commerciali naturali il centro commerciale naturale rappresenta sicuramente un ottimo veicolo per riqualificare i nostri centri storici soprattutto riqualificarli in un'ottica di collaborazione tra il comune e l'imprenditore il privato, il commerciante, l'artigiano quindi credo che è stata una bella scelta quella della giunta a Quaroli dell'assessorato che ha collaborato con me in questa cosa e dal dottor Tellarico perché abbiamo trovato le risorse per finanziare tutti i progetti cosa che non era mai avvenuta facendo in modo che quella progettualità non andasse dispersa inoltre si prepariamo per il prossimo anno a fare un ulteriore bando ancora più importante come numeri cercando di farlo diventare sempre più strategico vorremmo cioè che diventasse sempre più importante fare la sinergia e riqualificare i nostri centri commerciali naturali perché se vogliamo creare un'offerta turistica non può prescindere dal fatto che camminando nel selciato di un centro storico il turista ma anche il cliente, l'avventore torni ad abituarsi ad entrare nelle botteghe, nei negozi trovi un decoro urbano particolarmente qualificato questo è fondamentale, la base da cui partire per il rilancio della nostra terra è un progetto su cui ci abbiamo creduto molto e ci fa piacere che la regione abbia voluto investire e trovare altre risorse perché ci ha permesso di essere tutti sostenuti quindi tutti i 21 progetti che hanno partecipato al bando otterranno questo finanziamento nel nostro caso abbiamo scelto il borgo di Ia Vicemonte come centro commerciale naturale su cui andremo a fare complessivamente insieme a 6 imprese coinvolte 140 mila euro di investimenti di cui appunto 70 sarà poi il contributo della regione è un'azione importante che fa capire che in sinergia si possono ottenere dei risultati che vanno nella direzione di sostenere l'economia, il commercio e quindi anche il turismo Traffico stradale a lungo bloccato questo pomeriggio a Pesero fra zona Torraccia e Borgo Santa Maria le immagini che vi mostriamo si riferiscono ad una serie di rami e arbusti che si trovavano sulla carreggiata di strada del Monte Feltro che ha richiesto l'intervento dei vigili urbani per regolarizzare il traffico e quello dei vigili del fuoco per la rimozione della vegetazione e la messa in sicurezza di altrettanti rami pericolanti che si trovavano in cima ad un albero A Pesero nel sottopassaggio urbano di Via Lamarca è stato inaugurato oggi un murale dedicato al gruppo musicale dei Camillas e soprattutto alla memoria del compianto Mirko Bertuccioli scomparso, lo ricorderete, ad aprile 2020 Si tratta del primo di altri sottopassaggi della città che saranno riqualificati attraverso un ampio progetto di opere di street art Da oggi la seccatura di fermarsi a un semaforo rosso diventa quasi un piacere se lo stop ti viene imposto al sottopassaggio di Via Lamarca Ci si può prendere qualche istante per essere abbagliati dall'ondata di colori e simbologie accattivanti Se poi sei pure un fan dei Camillas diventa fortissima la tentazione di non ripartire al semaforo verde per soffermarsi a scandagliare sulla parete i tanti indizi di note e testi di Zagor e Ruben Fra centro, mare e ferrovia il sottopassaggio di Via Lamarca diventa ora una grande opera di street art in onore alle canzoni e alla produzione artistica del gruppo musicale sui generis tanto caro alla città di Pesaro e alla memoria del compianto Mirko Bertuccioli H. Zagor Camillas scomparso ad aprile 2020 Al taglio del nastro del murale presente, oltre al sindaco Matteo Ricci anche la commossa mamma di Mirko Bertuccioli e il partner artistico di una vita Vittorio Ondedei H. Ruben Camillas È stato fatto nella mia più completa non conoscenza e questa è la cosa che è ancora più bella perché praticamente così oggi veramente sono qua a vedere una cosa per la prima volta non passo per questa strada da settimane e settimane facendo dei giri lunghissimi quindi è una cosa che sul corpo sento come fatica con la bici devo passare lontanissimo perché volevo la sorpresa totale e la cosa più bella poi appunto che dopo me lo godrò meglio è anche l'idea di finire su una parete di essere attaccati a un tatuaggio sulla città di Pesaro quindi adesso i Camillas e Mirko che in questi rovi che vanno di qua e di là sul muro siamo una specie di tatuaggio e quindi questa cosa qui mi piace pensare non dirò sempre hanno fatto un murale se no dirò sai che hanno fatto un tatuaggio su Pesaro il tatuaggio dei Camillas è un po' questo Il murale è stato realizzato dai pesaresi Francesco Zanotti e Claudio Tacchi che hanno lavorato all'opera in piena notte con la concessione della chiusura del sottopassaggio fra le 23 di sera e le 5 di mattina L'idea è nata parlando con Massi Santini appunto di poter riqualificare i cavalcavia di Pesaro diciamo che è un progetto su cui stavamo lavorando da tempo e l'idea appunto di dedicare proprio a Camillas e a Mirko questo principalmente è venuta un po' a tutti insieme unanimamente perché diciamo che Mirko era un amico prima di tutto quindi ecco è nato tutto da chiacchiere ma si potrebbe fare non si potrebbe fare fino a arrivare al punto in cui appunto dopo una faticata siamo riusciti a portarlo a termine è il magico il meraviglioso mondo dei Camillas quindi sono tanti elementi che si possono trovare all'interno delle loro canzoni non svelo quali canzoni sono né quali elementi sono perché ci piacerebbe che i più curiosi li cercassero da soli e li svelassero magari in qualche pagina di Facebook dedicata non solo un omaggio ai Camillas ma Via Lamarca è anche il primo sottopasso urbano riqualificato a tema di street art che il comune di Pesaro ha messo in agenda assieme ad altri analoghi luoghi di transito cittadini abbiamo voluto improntare questo progetto sulla riqualificazione diciamo dei luoghi strategici urbani che erano un pochino caduti in degrado come in tante città i sottopassi sono dei punti nevralgici molto delicati che purtroppo si prestano molte volte anche ecco ad essere degradati con tag con bombolette eccetera eccetera con il sindaco abbiamo voluto ragionare e preparare questo progetto che si chiama sotto passaggi d'arte urbana e abbiamo voluto coinvolgere tanti artisti non solo locali ma anche che vengono da fuori città per poter regalare come vedete il colore e la voglia di sorridere ecco in questo momento soprattutto a tutta la città nonostante comunque sia la cosa importante quella che abbiamo riqualificato dei posti che prima erano comunque sia molto degradati detto questo il progetto si articola in sei fasi e nel 2021 saranno tre i sottopassi recuperati quindi questo di Via Lamarca abbiamo iniziato ieri quello di Loreto in direzione centro Montegranaro e poi a settembre sarà il turno del sottopasso di Via Milano per il prossimo anno stiamo progettando la riqualificazione dei sottopassi di San Decenzio di Via Gradara e per ultimo il sottopasso di Loreto quello però che da Montegranaro va verso il centro e i parchi giochi cittadini di Pesaro continuano ad essere arricchiti di scivoli o altalene donate dalla Onlus Gulliver attraverso il progetto Altro Giro oggi ad esempio è stato donato il quarto gioco e a beneficiarne è stato il quartiere di Villa Fastigi Cos'è Altro Giro? Un progetto che mette in circolo le cose che le persone non usano più quindi noi invitiamo le persone a portare le cose che non usano più abiti, su pelletti, gli oggetti qualsiasi cosa che sia in buono stato in Via Toscana nella nostra sede in Via Toscana 111 i ragazzi i volontari e tante persone che collaborano con la Gulliver rimettono in circolo queste cose i cittadini vengono da noi lasciano un'offerta prendono un bene e con questa offerta vengono fuori queste opere che sono concrete e reali nella città quindi il cittadino ci porta le cose che non usano più e poi vede nel quartiere in città cosa viene fuori dalla sua donazione i volontari sono la governance della Gulliver sono quelli che si impegnano tutti i giorni e indirizzano la Gulliver io sono solamente il portavoce quello che fa la sintesi ma i tanti volontari e tante persone che collaborano con noi sono veramente la governance che poi decide dove far confluire gli incassi delle botteghe o le donazioni che riceviamo sicuramente il fatto di aiutare gli altri la comunità il mio quartiere mi ha spinto soprattutto questo poi sono felice perché attraverso anche la Gulliver ho conosciuto anche nuove persone che prima non conoscevo e adesso mi trovo davvero molto bene e spero soprattutto che altri molti ragazzi vengano qua a creare una specie di famiglia perché ormai noi andiamo lì ogni giorno e stiamo sempre insieme il mio lavoro all'interno della Gulliver è la selezione dei vestiti che ci vengono portati e cerchiamo sempre di riuscire a tenere tutto perché molti vestiti sono sporchi o sono anche bucati e alcune cose non possiamo appunto tenerle per venderle ma cerchiamo sempre di prendere appunto di tutto anche dagli oggetti della casa cucina e questo comunque ci aiuta nell'incrementare le vendite penso che comunque a quasi 16 anni dobbiamo renderci conto di cosa significa essere cittadini essere cittadini non significa solo vivere la comunità esternamente ma aiutare come in questo caso tramite la nonos Gulliver tramite il volontariato a cambiare ciò che non va bene nel quartiere nella città come in questa casa Villa Fastigi con questa iniziativa bellissima ma appunto aiutare in vari modi a modificare ciò che non va bene e penso sia un'esperienza davvero bella invita appunto tutti i giovani a partecipare domani venerdì 16 luglio a partire dalle ore 18 si terrà nell'anfiteatro del liceo Marconi la cerimonia dei diplomati si tratta di un appuntamento che nel 2020 era stato interrotto a causa del covid-19 e che torna domani con la consegna degli attestati di merito agli studenti che hanno conseguito il massimo dei voti al termine dell'anno scolastico 2020-2021 dalle 18 in programma il conferimento della targa ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che hanno avuto 10 e 10 elode dalle 19-30 quella agli studenti delle secondarie di secondo grado che hanno ottenuto il voto di 100 e 100 elode e arriva un altro riconoscimento di 15 milioni a tutte le realtà unesco di cui 5 destinati alle 7 città che hanno presentato la richiesta in commissione bilancio è stato un grande lavoro di squadra dei sindaci delle città creativi unesco esulta così Matteo Ricci primo cittadino di Pesaro che beneficerà del contributo assieme alle città di Bologna Fabriano Parma Carrara Biella e Alba fondi che vanno così a sommarsi ai 50 milioni già destinati dal decreto sostegni bis e che andranno a coprire le mancate entrate della tassa di soggiorno dello scorso anno e continuano invece i concerti al parco Miralfiore con la rassegna Miral Teatro d'estate che sabato 17 luglio vedrà in scena Heroes omaggio a David Bowie grazie all'estero artistico di un cast musicale d'eccezione composto da Paolo Fresu Petra Magoni Filippo Vignato Francesco Diodati Francesco Ponticelli e Christian Meyer e dopo le tante restrizioni imposte dal Covid-19 il comune di Vallefoglia è pronto a riproporre la sua notte bianca l'appuntamento è già in calendario per il 31 di luglio l'edizione di quest'anno va avanti per la grinta la forza e la voglia di ricominciare sicuramente vanno segnalate due cose importanti la prima è che siamo in assenza totale di sponsor perché abbiamo pensato anche di non gravare e non agire sulle tasche dei locali che contribuiscono di solito alla festa le attività locali come sappiamo vengono non solo dall'emergenza diretta ma anche quella indiretta economica di conseguenza ci siano rimboccati le maniche e questa cosa continua ad andare avanti grazie alla volontà di tutti la formula sarà lievemente ridotta in termini di servizi perché purtroppo non potremo avere gli autobus in quanto sarebbe folle immaginare di verificare green pass per far salire la gente su degli autobus di conseguenza abbiamo deciso che quest'anno la notte bianca sarà a piedi anche perché dobbiamo far vedere alla gente che ormai le ciclabili sono una realtà estremamente consolidata va segnalato che noi credo che siamo stati il primo comune ad avere la ciclabile in tutta la provincia quindi andiamo avanti verso questa storia e portando la gente a piedi attraverso la città facciamo usufruire appunto del servizio della pista e in estrema sicurezza anche perché adesso la pista sul ponte è a posto di conseguenza ci si potrà spostare famiglie ragazzi anche più anziani attraverso le ciclabili in estrema tranquillità le aree sono tutte collegate da percorsi ciclopedonali quindi senza nemmeno lambire la strada per una volta e appunto questo ci permette di fare questa nuova formula quindi evitando gli autobus evitando situazioni di assembramento andiamo attraverso la città nel miglior modo possibile cioè a piedi oltre alla riduzione diciamo del servizio dei mezzi il resto è tutto come prima cioè ogni attività propone la sua cena il suo intrattenimento i negozi saranno aperti ovviamente la possibilità rimane sempre quella fino a mezzanotte poi dopo ognuno può liberamente scegliere di chiudere un po' prima se pensa che sia necessario chiediamo alla gente se possibile quando ha identificato il posto di verificare la prenotazione perché anche le cene e gli eventi per lo più dovranno seguire i canoni di prenotazione non è estremamente rigida questa cosa perché se su uno spazio abbiamo dei posti disponibili e senza prenotati sicuramente la gente potrà accedere e comunque utilizzare quegli spazi senza bisogno di prenotazione c'è bisogno di ripartire con grinta con forza con l'energia nel rispetto delle regole insieme all'associazione all'attività commerciale i commercianti della città di Vallefoglia a piedi in un percorso anche più carino perché insomma la pista ciclopedonale collega Montecchio Bottega Morciola un po' tutt'uno e poi insomma è un modo anche per diciamo vivacizzare ancora di più e dare una chance in più alle attività commerciali alle attività diciamo economiche produttive che hanno subito un anno duro difficile che va superato quanto prima noi faremo di tutto perché insomma si mantengano le regole la collaborazione con Giovanni con l'associazione e con i commercianti di perfetta sintonia quindi crediamo che possa avere un buon successo ed ora il nostro spazio dedicato ai libri letteratura e psichiatria si mescolano nell'uomo della luce nera il secondo romanzo dello psicoterapeuta Claudio Roncarati che andiamo a conoscere in questa intervista realizzata da Daniele Romagna Monari il segretario scientifico del centro psicoanalitico di Bologna l'ha definito un caso psicoanalitico che si legge come un romanzo noir Montecchi che è il presidente della scuola Blegger di psicoanalisi ha detto che è una indagine in cui la parte di Sherlock la fa un gatto quale gatto si chiama Freud ed è il gatto di uno psicoanalista sì io sono psichiatra sono psicoterapeuta e dopo tanti anni in cui mi sono occupato di supervisioni discussioni e casi mi sono convinto che il caso psicoanalitico è un genere letterario a sé l'io narrante è il gatto il gatto dello psicoanalista che è anche l'investigatore e questo espediente letterario mi ha permesso di scrivere il romanzo con un po' di calviniana leggerezza e rendendolo accessibile anche ai non adetti ai lavori i temi quindi del volume si vanno a mescolare con quella appunto che è la sua professione nel suo incarico professionale beh sicuramente io sono decenni ahimè ormai che faccio lo psichiatra e lo psicoanalista e ci sono veramente decenni di storia è un caso clinico è un caso clinico inventato che però contiene tante situazioni in cui mi sono imbattuto nella mia professione e ci sono di mezzo episodi inquietanti ci sono di mezzo situazioni che hanno suspense essendo un noir essendo basato sulla suspense grandi anticipazioni non lo faccio non le faccio non è la sua prima pubblicazione e oltre queste ricordiamo anche un importante concorso dedicato alla poesia grazie si è il mio secondo romanzo breve il primo sempre dal titolo si capisce qual è il filone antipsichiatria extra galattica ho scritto poesie e ho organizzato due concorsi letterari nazionali uno con fare editore di Rimini per poesie e racconti dedicati a combattere lo stigma e il concorso venne premiato con medaglia d'oro del Presidente della Repubblica il secondo con Raffaelli editore di Rimini rivolto a tutti i pazienti psichiatrici in carica di servizi in tutta Italia un concorso di poesia le poesie migliori sono state scelte da una giuria di qualità tra cui c'era anche l'urbinate piersanti e sono state pubblicate in un'antologia e concludiamo il nostro telegiornale con una notizia di sport quello di domani sarà infatti il primo giorno pesarese di Asa Petrovic come nuovo allenatore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro preannunciato da oltre un mese il tecnico croato che succede a Yasmin Repesha sarà ufficialmente presentato domani sera alle 19 a Villa Cattani Stuart ricordiamo che Petrovic è reduce dall'esperienza alla guida della nazionale brasiliana al recente torneo preolimpico e si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale prima di salutarci vi ricordiamo però qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata che alle 21.15 vedrà riproporvi a grande richiesta le stelle continueranno a brillare Pesaro negli anni 1935 1945 un approfondimento molto gradito da voi telespettatori siete in tanti che ci avete chiesto appunto di rivedere questo programma e per acquistare il DVD con le 6 puntate di questo documentario si può chiamare il numero che vedete in sovraimpressione 072126337 ma vi ricordiamo anche la prima serata di domani venerdì 16 luglio alle 21.15 il nostro speciale sull'edizione 2021 della Festival Canoro aspettando il gallo d'oro ed è davvero tutto per questa nostra edizione del telegiornale da parte mia e di tutta dalla redazione di Rossini TV il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i nostri programmi grazie a tutti